andrà tutto bene puntata numero 393 oggi è mercoledì 5 agosto 2020 e sono le 10 e 47 dagli studi televisivi di Antena del Mediterraneo a Capo d'Orlando in provincia di Messina Gioacchino Onorati e da San Vito Chietino in provincia di Chieti Giuseppe Ferraro ben trovato Giuseppe ben trovato a te Gioacchino grazie di questo invito Giuseppe Ferraro filosofo e ideatore anche di un movimento politico? Certamente sì l'Italia del Meridione che hai costituito insieme ad Orlandino Greco è nato che è partito da un incontro per la verità in occasione di una mia presenza all'università a Rende e tenne lì una conferenza sull'etica dove parlavo appunto della funzione dell'etica che l'etica per l'espressione greca etos fa riferimento a natana, ambitazione e soprattutto la costruzione dell'etimo di etica ci porta al ritorno cioè la casa in fondo è dove uno ritorna come dire chi non può ritornare chi non ritorna o si è perduto o non a casa e quindi il ritorno è importante lì ovviamente si parlava che la Calabria ci sono più calabresi fuori della Calabria che non in Calabria e quindi il problema del ritorno che poi insomma per i migranti ovviamente il ritorno è sempre interiore insomma c'è la Calabria uno la porta dentro di sé e tuttavia c'è sempre questo pensiero del poter ritornare ora ovviamente è un tema questo qui scottante per un paese come l'Italia che vede tanti giovani andare via andare via insomma per in fondo applicare quello che hanno studiato qua insomma quello che hanno appreso qui quindi un'esportazione non soltanto di sé stessa insomma ma proprio anche delle delle proprie conoscenze della propria identità insomma e così via quindi l'Italia è un paese che ha a che fare con il mancato ritorno con il desiderio del ritorno dei suoi giovani delle sue forze della sua intelligenza non a caso quello su cui sto lavorando in questo momento ed è sarà il libro a seguire quello che è stato poi l'ultimo Italia il libro che seguirà sarà restituire l'Italia al Meridione perché si tratta proprio di una restituzione infatti Italia del Meridione nasce così da quella conferenza ci fu come dire un innamoramento da parte del sindaco allora di Castrolibero appunto orlandino greco ma c'è fu l'innamoramento dicevo così proprio di tutti i calabresi presenti insomma a queste parole per cui insomma fui come dire preso accerchiato felicemente in questo abbraccio da lì è continuato questo dialogo sono nati dei libri scritti in maniera dialogica a cui mi sono prestato ovviamente ed una era il meridione fuori questione perché appunto insomma pensare al meridione fuori dalla questione meridionale quindi essere meridionali senza essere meridionalisti per così dire e questa è stata la prima conquista diciamo così proprio ideativa da qui poi ho lanciato questa espressione che è diventato il nome del movimento cioè Italia del Meridione per dire non più meridione d'Italia che è un'espressione geografica il meridione d'Italia ma Italia del Meridione è un'espressione politica identitaria cioè Italia del Meridione significa quello che il meridione rappresenta in questo paese come Italia ovvero la prospettiva di Italia che il meridione può offrire all'Italia stessa al paese intero o come poi ho significato nel titolo dell'ultimo libro alle Italie perché questo è un paese fatto di una pluralità tant'è che l'unità d'Italia è stata diversamente sofferta un po' da tutti perché l'unità è appunto una misura quello che manca al paese è l'unione abbiamo un'unità del paese senza un'unione degli italiani e forse anche senza un'unione europea probabilmente ma il compito dell'Italia che è stata tra i fondatori non lo dimentichiamo della comunità europea e che non a caso ha usato questi nomi comunità e unione non unità se pensiamo a tutte le diatribe e a tutte le contestazioni verso l'Europa e sono sempre mirate ad un'Europa dell'unità per mancanza dell'unione ma a questo punto il compito ritorna maggiormente all'Italia perché l'Italia ha in possesso dentro di sé il problema di esprimere l'unione cioè noi abbiamo la possibilità di rappresentare all'Europa il significato stesso dell'unione perché è il nostro desiderio questo è un paese che è stato più unito quando non c'era l'unità è paradossale ma se io leggo Gian Battista Vico e sono nel settecento se io leggo Leopardi che non hanno vissuto l'unità d'Italia tutti quei testi, se io leggo Pisacane, le persone che sono anche diciamo così cadute per la patria cioè gli italiani erano in unione e si conoscevano di più e viaggiavano di più e si incrociavano di più nei dibattiti ideali, politici, culturali molto di più di quanto non è avvenuto con l'unità d'Italia allora chiediamoci questo aspetto qua che è importante cioè qui la patria non ha mai coinciso con lo Stato e questo è il paradosso cioè il patriottismo italiano molte volte è finito contro lo Stato faccio pure l'esempio che l'invocazione al populismo è sempre antistatale allora mettiamoci d'accordo su questo aspetto perché non è soltanto la questione del meridione la questione dell'Italia intera la distorsione del rapporto tra Stato e società cioè voglio risalire anche alla storia tutta indietro insomma anche quella più terribile di questo paese dove non si è mai coniugato insieme lo Stato e la società perché le istituzioni non hanno rappresentato quella mediazione necessaria tra lo Stato perché lo Stato è lo Stato dice, è la legge che dice che i diritti umani cioè l'uguaglianza dei diritti umani questo è lo Stato cioè se io leggo la Costituzione italiana nei suoi dodici principi è perfetta, bellissima se ogni partito politico avesse come manifesto quei dodici principi sarebbe il partito più augurabile e più spettacolare insomma di questo mondo il problema sono gli articoli all'applicazione che distorgano quei principi e allora è la stessa cosa del rapporto tra Stato e società permettimi di dire soltanto questo passaggio poi ritorno più specificamente su Italia del Meridione però se lo Stato è quello che garantisce l'uguaglianza dei diritti umani la società è quella dove si svolge la legislazione dell'applicazione dei diritti allora noi abbiamo questo contrasto cioè dello Stato come dire quando noi leggiamo quell'indicazione la legge è uguale per tutti quello è lo Stato quando poi ci troviamo a dover affrontare dei processi capiamo che la legge non è uguale per tutti e questo lo scarto e allora quello che è accaduto in questo paese è che non si è mai arrivati all'unione cioè l'unità è stata un'unità di misura ora se io prendo un'unità di misura io non posso misurare geometricamente dei luoghi che sono differenti morfologicamente identitariamente cioè l'unità di misura è geometrica e allora io non posso prendere la fabbrica che si svolge in un paese e trasportarla insomma in un altro paese perché non vale questa unità di misura cioè non si possono fare parti uguali tra persone diseguali diceva insomma il buon Don Milani il problema non è l'unità di misura è l'unione è l'unione della pluralità questo paese è bellissimo è ricchissimo ogni città è l'unico paese al mondo che può vantare in una penisola territorialmente circoscritto il maggior numero di città con una storia millenaria l'Italia del meridione vanta addirittura la prima edificazione e costruzione di città se io mi metto davanti la cartina della Magna Grecia resto impressionato dalle città da Region ora Reggio da Locri da Locri che era praticamente il vanto della democrazia del tempo Platone dedica il Timeo cioè il dialogo sullo Stato perfetto appunto a un signore Timeo che era di Locri cioè in omaggio a Locri ora se io guardo la cartina geografica delle ferrovie dello Stato delle ferrovie dello Stato mi rendo conto guardate tutti quanti la cartina delle ferrovie dello Stato guardate i binari dove sono collocati e vedete insomma i binari le vie che vanno che vanno al meridione cioè è uno scarto impressionante perché il meridione purtroppo era come regno il più grande quando fu fatta questa benedetta unità d'Italia che fu fatta dagli inglesi come gli inglesi insomma stabilirono tutte le postazioni del Mediterraneo ricordiamo che il regno di Napoli era anche titolato ad essere re di Gerusalemme fate attenzione a questo aspetto cioè dominava il Mediterraneo per così dire gli inglesi chiesero prima ai Borboni volete fare l'unità d'Italia i Borboni risposero no l'assegnarono a chi evidentemente allo Stato che aveva più bisogno di essere Stato regno in quel caso regno che non era insomma il più grande insomma del paese certamente aveva degli agganci delle alleanze tale per cui noi siamo arrivati ad essere amministrati da uno Stato che aveva un'amministrazione per una regione circoscritta ad estendere questa amministrazione a tutto un intero paese cioè è stata una follia cioè l'unione non si è mai realizzata allora siamo partiti con il piede sbagliato per cui l'Italia resta ancora il nome che Cesare le dava fino al Rubicone e siamo ancora lì e allora il problema è veramente lanciare dire Italia del Meridione non significa né parlare di secessione né di un leghismo insomma al sud ma significa proporre le Italie proporle l'unione delle Italie per cui il Meridione è un'immagine dell'Italia perché se io poi vado all'estero quando mi parlano dell'Italia e quando mi dicono spaghetti pizza mandolino insomma eccetera io non trovo nessun'altra indicazione che non sia quella del Meridione peraltro ma a parte questo insomma a parte questo c'è ogni il Veneto ma c'è Venezia rappresenta una storia millenaria ma non ce lo dimentichiamo di questo Torino rappresenta una storia Firenze rappresenta una storia siamo l'unico paese che può vantare tante città capitali che sono state capitali allora il problema è proprio mettere insieme queste Italie per quello l'ultimo libro si chiama Italie e per quello il libro che verrà si chiama Restituzione dell'Italia perché noi dobbiamo restituire proprio l'unione che non si è ancora fatta e non trovo ancora nessun partito che sia il partito dell'unione non trovo ancora nessun partito che sia il partito dell'unione e non voglio neanche dire unione delle autonomie ma voglio dire unione delle comunità e guardate che in Calabria in Calabria è un luogo meraviglioso a parte per le sue bellezze naturali e tutto quello che ci mettiamo di produttività dei prodotti locali insomma eccetera pensate che Calabria un tempo era anche tutto quanto il Salento cioè Virgilio disse insomma sono morto in Calabria in realtà insomma noi diciamo come è possibile se era Brindisi no Brindisi era ancora Calabria ma lasciatemi dire questo insomma che è assolutamente importante Giuseppe purtroppo abbiamo soltanto un minuto per chiudere questa puntata poi magari ne faremo subito una dopo se vorrai la Calabria conserva è una sorta di archivio di comunità in Calabria si parla ancora il greco antico in alcune zone si parla l'albanese antico in alcune zone si parla il provenzale in alcune zone cioè ci sono delle comunità e questo è il punto cioè non sono le autonomie terribili ma le comunità e allora la mia prospettiva quello che poi insomma ha dato stura a tutto questo percorso è in uno slogan assai preciso cioè arrivare a delle comunità sociali in una società comune una società comune di comunità sociali perché le comunità in questo paese sono tante ed è un paese che è sempre stato di migrazione e allora però importante è esattamente questo la logica plurale delle comunità di cui la società si rappresenta come unione Dio santo è così semplice e banale che è sotto il sentimento che è nel sentimento di ognuno di noi di sentirci italiani ma traditi dallo Stato di avere un patriottismo contro lo Stato di un populismo contro le istituzioni è paradossale dobbiamo farla finita con questa e quindi dobbiamo ritrovare quel rapporto tra istituzionale e sociale che fin qui è stato sempre diciamo così deviato se penso agli ultimi esempi se io penso a Palamara Fontana i Carabinieri eccetera io sto parlando di una di una corruzione dentro le istituzioni cioè sto parlando di persone istituzionali che non credono nelle istituzioni che rappresentano e allora questo è il punto c'è una patria senza Stato una patria contro lo Stato sono tutti patrioti sia Palamara sia Fontana sia il Carabinieri sono tutti patrioti come ognuno di noi lo è che evade puntualmente insomma c'è ancora un punto la burocrazia che è il luogo della corruzione cioè il mafioso in carcere mi disse poi so è la burocrazia che ci permette di esistere senza burocrazia noi non esisteremo in Inghilterra la burocrazia non c'è ma se io devo fare una carta di credito me la danno sul momento in Italia io devo aspettare mille anni se ho un credito con lo Stato lo Stato mi paga dopo tre anni io devo ricorrere a qualcuno che mi presta i soldi è una follia tutto questo per cui è il rapporto tra istituzione e società tra Stato e Sistione noi dobbiamo avere una patria e uno Stato dobbiamo essere delle comunità sociali in una società comune e quindi significa passare dall'unità all'unione e solo così noi potremmo avere il vanto di dire all'Europa l'unione si fa così perché è l'unione delle comunità io ti ringrazio moltissimo Giuseppe abbiamo utilizzato tutto il tempo a nostra disposizione se vorrai potremmo fare altre puntate grazie Giuseppe ciao nasce un'idea di giustizia e parità sembrava fantascienza invece eccoci qua dare la voce a chi di voce non ne ha più perdevi la speranza invece adesso ci sei anche così come è stato nascendo 58 anni a questa parte non ne ha più ha faccio a alla a a a a a a Grazie a tutti.